eccoci qua benvenuti su being sapiens continuiamo il dialogo e il quinto incontro tra me gianandrea giacoma e gianluca bocchi alla luce di quello che abbiamo detto negli ultimi quattro incontri dialoghi mi è suscitato delle riflessioni è fatto pensare questo che gran parte totalmente ma una buona fetta delle sfide culturali di oggi hanno a che fare con delle sfide epistemologiche classiche del mondo della psicologia epistemologiche sia nel senso stretto del modello di conoscenza scientifica applicabile o meno nell'ambito della psicologia e sia anche il senso di modello della conoscenza umana in generale e accenno velocemente a queste tre riflessioni che domande che mi sono venute che voglio condividere con te e vediamo cosa suscita la prima è la necessità di trovare un migliore equilibrio tra la conoscenza in terza persona di cui generalmente viene rappresentata la migliore rappresentazione è la conoscenza scientifica e la conoscenza in prima persona esperienza fenomenologica come si dice quindi la prima domanda è come riuscire a trovare un migliore equilibrio integrazione tra la conoscenza in terza persona e la conoscenza in prima persona secondo punto è come instaurare una dialettica costruttiva tra la necessità di una conoscenza dell'essere umano media statistica e la irriducibilità dell'individuo e la terza questione è come dobbiamo far evolvere l'attuale modello esplicito e implicito di essere umano adulto alla luce delle sfide che abbiamo oggi delle conoscenze che abbiamo oggi in modo tale da integrarlo con le nuove conoscenze ad essere appunto pronti per sfide che magari in passato erano o non c'erano o erano diverse ma intanto direi di iniziare il dialogo su una questione anche questa cruciale cioè che cosa vuol dire che la scienza si basa con la conoscenza in terza persona cioè io sarei sarebbe meglio dire poi ne parliamo sulla conoscenza intersoggettiva perché il discorso della terza persona ha dei terribili limiti no nel senso che intanto si dice terza persona magari in inglese qualche volta si usa dei però soprattutto in italiano ma anche in inglese non è la terza persona è l'impersonale si dice si è scoperto chi che e tra l'altro sappiamo che il sin personale italiano ha soprattutto un significato passivo si è scoperto che quindi il soggetto non solo è un soggetto altro dal soggetto dell'esperienza ma scompare e questo è un'operazione linguistica come dire quasi un gioco di prestigio che è particolarmente pericoloso naturalmente perché sembra che la conoscenza si prescinde da qualunque soggetto no e quindi c'è il rischio di presentarla come una verità oggettiva mentre in sempre dipende sempre dipende da accordi intersoggettivi no allora spieghiamo un po meglio le cose allora in primo luogo no non è detto che la scienza sia solo in terza persona no perché ci sono tantissime operazioni che noi possiamo considerare di divulgazione scientifica chiamiamola di divulgazione scientifica e lo dico in senso positivo poi dovremmo dire di più in cui anche per ragioni editoriali in genere sono autori che raccontano la propria esperienza a un pubblico più generale degli specialisti anche per il proprio per un io vedi test inglesi americani per una un ausilio editoriale proprio un consiglio editoriale fanno i capitoli in prima persona no e quindi pongono l'accento sull'esperienza d'altra parte se noi andiamo a vedere che so galileo o in modi diversi anche da avwin no lì problema non è tanto di sintassi o di grammatica no ma il fatto che l'esperienza della prima persona viene fuori no allora come sempre abbiamo parlato anche nei dialoghi c'è una ragione storica da questo punto di vista che come dire però col passare del tempo invece che essere così dire positiva ha trovato anche i suoi lati oscuri no perché chiaramente all'origine della modernità l'accento è sull'esperienza individuale no cioè voglio dire galileo e che pleo no sono singole persone no rivoluzionari all'avanguardia eccetera eccetera no dopodiché soprattutto in inghilterra nel seicento nel seicento nel settecento attorno a newton alla royal society eh quando diciamo la singola esperienza eh si traduce in esperimento controllato no quindi quando nasce il laboratorio in qualche modo eh gli autori della come dire delle sensate esperienze per dirla con galileo vogliono trasmetterla ai loro pari e questo che cosa vuol dire che i testi della scienza del seicento del settecento qualche volta hanno lunghe descrizioni sulle modalità di esperienza di esperimento che si possono replicare rispetto agli esperimenti pionieristici in altre parole io faccio questo e vedrai che se tu in certe condizioni farai questo otterrai lo stesso risultato è una voglia no di ampliare di legittimazione della scienza no tra l'altro lì ci sono anche cose un pochino divertenti tipo che eh all'inizio in inglesi no si rivolgono ai loro pari dicono non è certo il giardiniere il mio interlocutore c'è un aspetto classista in questa origine no un aspetto classista che tra l'altro poi ci torniamo su porta a ignorare oggi quanto la scienza non è solo quello che fa in laboratorio ma anche le esperienze divulgative in prima persona che vengono raccontate a un pubblico più generale no perché oggi ci sono tante ricerche sull'unità della scienza e ovviamente la scienza è tante cose tanti registri e eh non possiamo ne considerare di serie B quella che posso che viene chiamata ripeto un po' impropriamente la divulgazione scientifica allora che cosa succede succede che e lì eh c'è una grande filosofa eh della fine del ventesimo secolo che è ancora attiva Isabel Stenghes che ha lavorato con Ilya Prigozzi chimica e filosofo no che eh eh sottolinea ma che la replicabilità dell'esperimento in laboratorio non è un fatto scontato ma presuppone l'isolamento dal laboratorio del laboratorio dalle influenze esterne no e non è detto che questo sia facile da percepire noi diamo per scontato in certe esperienze che c'è una perfetta replicabilità ma poi magari scopriamo perché poi noi non possiamo vedere tutti i fattori che influiscono scopriamo che magari il nostro laboratorio non era isolato e che quindi avvengono altri eventi questo eh è importante soprattutto per le scienze umane perché che cosa vuol dire fare mettere dei soggetti umani o anche delle delle scimmie o degli animali in un contesto di laboratorio replicabile è possibile questa cosa eppure lo si è fatto tranquillamente e lo si è dato per scontato allora chiaramente non è che si vuole mettere in discussione tutta questa cosa però diciamo una cosa importante interessante che se ci crediamo alla scienza e non allo scientismo diciamo che l'esperienza soggettiva è in prima persona è il punto di partenza poi uno scopo della scienza è di rendere questa esperienza inter soggettiva appunto io lord inglese che ho fatto delle esperienze parlo ai miei pari e spero che loro facciano le stesse esperienze quindi a una pedagogia no che poi in qualche modo ha universalizzato la scienza no però l'inter soggettività della conoscenza scientifica ripeto la chiamo inter soggettività e non soggettività perché anche nei casi più generali è legata per quanto sappiamo noi alla specie umana oppure anche ai mammiferi no ci sono gradi diversi di inter soggettività ma sono sempre partono sempre dalla nostra esperienza di osservatori umani no ecco ovviamente ci si guadagna molto perché noi non è che ne costruiamo tutta la come dire la le impalcature della scienza il modo di esprimersi eccetera eccetera però tutto sommato diamo maggiore risalto al punto di partenza che è sempre l'esperienza o individuale o di gruppi o di comunità no perché poi è chiaro che nella pratica scientifica no assume sempre più valore nel corso della dell'età moderna non l'individuo che è nel laboratorio da solo no ma quello che cuna ha enfatizzato la comunità scientifica che però sappiamo che poi può avere anche grossi limiti un'altra cosa che voglio aprire è questo è un discorso che secondo me è molto attuale a prescindere poi da come da quali sono le implicazioni no che noi diamo noi voglio dire la tradizione scientifica moderna quando si è indurita in scientismo dice che le uniche forme di di conoscenza legittime sono conoscenze generalizzabili cioè per cui la procedura diciamo delle delle vie di conoscenza è formalizzata in linea di principio diciamo può essere implicata no ecco io non ci credo no nel senso da questo punto di vista no voglio dire a proposito delle scienze umane no voglio dire uno dei fondatori della psicologia william james a posto questo problema no ma questo vale secondo me vale per tutte le scienze solo che in certi ambiti no ovviamente abbiamo visto convergenze notevoli a livello della specie umana anche se poi anche le scienze le scienze fisiche chimiche eccetera eccetera sono soprattutto un patrimonio occidentale no però le altre civiltà entrando in questa comunità più o meno l'intersoggettività è garantita finché non avviene la rivoluzione scientifica perché voglio dire poi cun è stato criticato da tanti punti di vista ma secondo me è l'aspetto di cun che dice che che noi possiamo vedere il mondo in modi diversi alternativi e che questo conta anche nella scienza secondo me è una acquisizione fondamentale del ventesimo secolo no quindi vedi perché bisogna parlare ancora di storia perché bisogna un po' decostruire certi luoghi comuni no benissimo che ci sia la terza persona nei saggi scientifici o il passivo che poi alla fine domina ma diciamo che dobbiamo tornare alle matrici di questa procedura no quindi sono modi di dire ma non è detto che non celino il processo cognoscitivo la cosa più interessante del processo cognoscitivo io credo per l'ennesima volta e questo è emerso più volte nei dialoghi che abbiamo già fatto fino adesso c'è questa dialettica tra una visione filosofica dell'essere umano della conoscenza e conoscibile e certe nostre predisposizioni psicologiche non di raro mi è capitato anche proprio nel mio ambiente anche nell'ambiente accademico vedere questa particolare dinamica di incontrare persone profondamente esperte della mente nel cervello del rapporto mente cervello che ovviamente è tutt'altro che banale tutt'altro che risolto da vari punti di vista ma poi proprio questa cosa diventa più evidente proprio alla luce dell'essere particolarmente competenti di di certe teorie e modelli della mente lì si poteva poi osservare nelle relazioni quotidiane come erano nel contempo poco consapevoli della propria mente cioè questa dissonanza tra ed è più facile appunto vederla in certi contesti un sostituire un conoscere propriamente il proprio cervello in terza persona invece di accompagnarlo perché è una ricchezza con un continuo lavoro di esplorazione nel proprio mondo mondo psichico emotivo e possiamo usare tante prospettive in prima persona non so se sono riuscito a far capire che cosa che cos'è sì però prima di andare avanti su questo tema che è molto interessante dobbiamo anche lì sfatare un discorso che come viene fatto a un certo livello è anche giustissimo ma che può essere come dire fuorviante no perché te parlavi di persone che hai incontrato e che quindi fanno parte della modernità occidentale in genere sono occidentali magari possono essere anche non occidentali no ma diciamo del tra il ventesimo e il ventunesimo secolo no allora io non dico che non sia interessante ragionare sulle predisposizioni della mente umana è interessante però non dobbiamo stare per scontato che la mente umana come con le sue priorità della fine del ventesimo secolo del ventunesimo secolo sostanzialmente in occidente possa essere generalizzata all'aumento umana in generale purtroppo questo è un enorme problema perché noi un sacco di civiltà le abbiamo estinte o non gli abbiamo dato la parola no però faccio l'esempio no per una delle civiltà più lontane da noi no gli aborigeni australiani che in qualche modo vivono ancora no vabbè chi studia gli aborigeni australiani sa che hanno una visione del mondo lontanissima dalla nostra e proprio per questo io non sono minimamente esperto dell'ambito ma la trovo molto interessante poi si può parlare di tante altre civiltà e cose del genere ecco l'umanità è tutto questo purtroppo noi non abbiamo evidenze sperimentali no per dire le condizioni neurologiche della mente nel passato cioè le possiamo dedurre chiaramente sul mondo dei greci ci sono anche delle cose molto interessanti perché abbiamo parecchie testimonianze del mondo dei greci ma sono tutti tentativi quello che voglio dire è una consapevolezza critica di dire guardate che l'umanità è qualcosa di più le potenzialità umane che vale non solo nel passato e nella trovo ma anche nel futuro di una condizione transitoria dopodiché quando te parli del problema della della condizione transitoria no della mente umana io sono d'accordo no ma lì adesso questo discorso varia da persona a persona no però qual è il grande problema che oggi la gran parte delle persone che si occupano anche della mente del cervello uno se ne occupa in ambito disciplinare ripeto il termine di disciplina che meriterebbe tutto un'analisi come dire non è un bel termine in italiano comunque è stato introdotto quando sembrava che i contenuti scientifici fossero indominabili e quindi si è cercato di recintare organizzativamente i saperi ne abbiamo già parlato però questo ha dato un'idea territoriale del sapere statica che non è ovviamente processuale secondo luogo lo fanno in genere in ambito accademico peggio ancora se lo fanno poi in certi ambiti con le aziende perché le aziende ti danno grande pressione ancora più dell'accademia ma non è che l'accademia non ti dà la pressione ci sono tante incongruenze culturali per cui praticamente la separazione la territorializzazione del sapere dalle procedure accademiche viene enfatizzata terzo luogo e qui bisognerebbe fare un discorso sulla variabilità individuale la nostra è un'età ma soprattutto se sei nell'accademia e se sei un esperto che ha un primato secondo me squilibrato della parola scritta rispetto alla parola orale adesso la scrittura è una grandissima tecnologia e nessuno la mette in discussione però gli esseri umani sono orali da milioni di anni mentre la scrittura è una tecnologia che si risale a 6.000 anni fa per contare le otto di vino e i magazzini ma che fino al tempo di Gutenberg in occidente era utilizzata fondamentalmente dai burocrati eccetera eccetera quello che voglio dire è che esistono tantissime modalità di comunicazione fra gli umani e la scrittura ovviamente è una modalità molto ritualizzata che è molto positiva ma può diventare pericolosa se la usi eccessivamente in ambito accademico che cosa voglio dire? io non faccio un'ipotesi collettiva per carità ma la faccio individuale perché poi io credo che ognuno di noi del resto la plasticità cerebrale la pluralità dei nostri sistemi neurologici è un tema all'avanguardia che bisognerebbe studiare perché noi non a caso voglio dire il cervello nei primi tre anni ha una grandissima plasticità e poi si è scoperto che può andare avanti questo percorso però voglio dire che di fronte alla plasticità individuale c'è una ritualizzazione organizzativa che rischia di ridurre la plasticità del cervello quindi voglio dire la sindrome che te denunci che è verissima è come dire già squilibrata da persone che hanno avuto diciamo una tendenziale perché ti ripeto io pongo il problema non le situazioni specifiche una tendenziale riduzione della plasticità cerebrale allora qui bisogna aprire un altro discorso sulla creatività umana perché con tutte le modalità studiate a livello della creatività umana è un ambito enorme però una cosa molto interessante è che perché una mente sia creativa spesso sia necessario connettere moduli di funzionamento cerebrale anche lontani diciamo nella diciamo nella topologia del cervello adesso parlo spazialmente non è un discorso spaziale però e l'ho detto questo molti matematici addirittura matematici ma molti scienziati creativi hanno imparato a loro spese ma a loro fortuna di far funzionare il cervello anche in maniera inconscia il sogno il sonno ci sono tutti gli anedoti tipo Poincaré che aveva un problema difficile è andato in vacanza e poi il problema gli si è balenato la risoluzione del problema gli si è balenata quando andava in carrozza in vacanza oppure la storia dell'anello del benzene che viene fuori dal serpente dall'uroboro e sembra che sia stato fatto nel sogno una visione in realtà c'è tutta una letteratura così che però sembra che non riguardi quasi noi stessi cioè dice eh sì grandi uomini invece in realtà penso che anche la creatività quotidiana deve derivare da un gioco di accensione e di spegnimento cioè di incentivare certi circuiti cerebrali e poi magari di attenuarli per fare in modo che poi dopo ognuno ha le sue strategie può andare in vacanza può dormire può farne così ma si crea il ponte con altri circuiti cerebrali apparentemente eterogenei ecco allora qui dico qui penso che ci sia una patologia che in qualche modo è alla base di quello che dichiaravi te ma che ripeto poi varia tantissimo individualmente che il loop cerebrale cioè attivare quasi costantemente gli stessi circuiti se vogliamo poi dopo gli stessi approcci gli stessi perché poi chiaramente il cervello ha anche una conseguenza nella nostra mente in generale quindi i loop cerebrali sono anche una sclerosi nei nostri modi di vedere il mondo sono anche una certa intolleranza ecco è un limite diciamo tra le tante cose i tanti vantaggi che ha dato qui non stiamo parlando della scienza ma della sua istituzionalizzazione sull'ambito disciplinare territoriale e sulla come dire esasperazione della parola scritta quale praticamente unico mezzo di valutazione no che è una cosa molto accademica e molto pericolosa ecco credo che sia un problema molto serio che ovviamente diventa poi comico quando cioè comico tragico direi però quando si ha a che fare con gente che si occupa dell'umano perché poi ovviamente il paradosso dei nostri tempi che cos'è che i fisici in linea di principio soprattutto i fisici che si occupano di fisica quantistica di cosmologia sono quelli emotivamente più aperti a certe cose perché studiando ovviamente i loro ambiti hanno visto hanno avuto l'esperienza dello spiazzamento assoluto e del fatto che ovviamente le cose tutt'oggi non tornano le fai tornare per un processo che è lontano dall'intuizione eccetera eccetera quindi mi sembra che questa esperienza in chi si occupa dell'umano non sia ancora generalizzata dopo è chiaro che chi si occupa dell'umano ha avuto dei grandi che l'hanno enfatizzato io adesso citavo William James perché viene in qualche modo riscoperto ma chiaramente è uno dei temi fondamentali di Jung al di là delle sue costruzioni poi però vedi che questi problemi sono anche un pochino rimossi invece io credo che la tua osservazione deve essere presa sul serio e fermo restando che c'è poi una componente individuale perché voglio dire gli individui sono sempre responsabili di tante cose però c'è anche una componente collettiva come dire un malinteso nel pensare che cosa sia la scienza che così sia la conoscenza che così sia anche l'essere umano sei d'accordo su questo? sì assolutamente io penso che siamo in un punto di svolta possiamo chiamarlo salto antropologico possiamo chiamarlo in tanti modi dal punto di vista della cultura umana e uno di questi pilastri di questa svolta è proprio come l'interazione tra questa inflazione della conoscenza in terza persona che è fatta anche poi di come dicevi tu come è strutturata l'accademia come sono strutturate i modelli e le prassi dell'educazione eccetera rispetto a quella in prima persona è ambiguo il discorso perché parallelamente in realtà poi sta crescendo un sacco la conoscenza e le prassi su questo fronte è più una dialettica tra il mainstream e certe avanguardie dicevo uno di questi pilastri di questa svolta culturale è il rapporto tra l'inflazione della conoscenza in terza persona e la necessità sempre più fondamentale di un incremento individuale collettivo di metacognizione per semplificare cosa intendo per metacognizione la capacità degli esseri umani di diventare gradualmente sempre più consapevoli non solo dei propri contenuti psichici ma anche degli schemi del funzionamento dei propri modalità di funzionare come sistema mentale questo per diversi motivi non solo perché è una delle cose più importanti su cui investire molto più della macchina sportiva o di chissà quale vacanza in cui spendiamo migliaia di euro investire sulla conoscenza di sé è un investimento proprio per la propria felicità per aumentare la probabilità di diventare sempre più se stessi creativi e capace di relazionarsi con se stessi e con gli altri e questa poi è anche una ricaduta collettiva perché se sono società fatta di individui con un medio livello di metacognizione maggiore dovrebbe essere a livello probabilistico una collettività anche più consapevole ma c'è un altro fattore che è quello che le due diverse velocità tra la conoscenza possiamo chiamarla la scientistica in un certo modo della scienza e inflazione eccessivamente della terza persona è molto efficace per alimentare la sinergia con lo sviluppo di tecnologia quindi e poi attendere il rischio già che appunto si paventava già il secolo scorso è quello di avere una società una cultura capace di essere molto efficace nello sviluppo di tecnologie sempre più potenti no? è un livello di metacognizione molto lento rispetto all'accelerazione della capacità di sviluppare una forma di conoscenza che poi diventa tecnologia che a sua volta alimenta la conoscenza no? non so se sono riuscito a rappresentare questa opportunità anche qui hai detto varie cose tutte interessanti uno vabbè il discorso della reazione no? qual è il rischio di enfatizzare solo la prima persona il settarismo no? che è pericolosissimo no? intanto pensiero new age cioè adesso al di là di aspetti caricaturali no? che uno si autonomina sciamano no? ma il problema è che ovviamente la sola prima persona porta al solipsismo cioè c'è sempre un trend intersoggettivo che deve essere attivato anzi l'infatizzare cioè torniamo alla bellezza dell'origine della scienza cioè che Galileo o che Plevo volevano condividere le loro esperienze Galileo voleva far vedere il cannocchiale agli aristotelici per dire per cui ovviamente il discorso è da equilibrare assolutamente da questo punto di vista no? però qui quello che hai detto è proprio torniamo alla tesi di Michael Gilchrist di cui abbiamo già parlato no? è che la sua opera è un mare magnum che è giusto con cui è giusto confrontarci cioè lui dice che una parte di noi cioè l'emisfero sinistro in genere nasce evolutivamente per la manipolazione quindi che questo afflato tecnologico non è solo umano ma è ancestrale no? è dei mammiferi poi te l'ho detto fa risalire questo aspetto anche agli uccelli no? ma diciamo è una quindi voglio dire questo chiude tutto il discorso di dire ah la tecnologia oggi la tecnologia è male no? però c'è anche l'altro emisfero che porta diciamo di più alla comprensione e non alla manipolazione immediata quindi te hai denunciato la presenza di un enorme squilibrio nella nostra civiltà che però è uno squilibrio che sta anche dentro di noi non solo nelle pratiche sociali naturalmente no? dopodiché è chiaro io ognuno la vede nel suo contesto io la prevalenza del cervello sinistro la vedo proprio adesso faccio un discorso dell'accademia rispetto agli studenti ai ricercatori così nella totale inconsapevolezza delle loro modalità neurologiche rispetto allo scrivere e al lavoro perché voglio dire se te sei in un certo contesto che privilegia il quantitativo rispetto al qualitativo te non riesci più ad avere un rapporto costruttivo tra ciò che studi ciò che pensi e ciò che scrivi dove il paradosso è che moltissime persone scrivono senza studiare senza pensare e questo ripeto poi possiamo criticare individualmente chi fa certe cose poi si dice ma quello non studia più forse non ha mai studiato non so come dire cioè se te non hai una presa di consapevolezza delle tue modalità neurologiche diciamo della creazione perché poi se scrivi è un'opera di creazione ma anche se parli anche se fai questo video eccetera eccetera se te non hai una consapevolezza anche non lo so dei rituali dei trucchi appunto delle modalità per attivare al meglio il tuo cervello no rischia di esserci una sclerosi cognitiva banalmente rischia che i modi più utilizzati si replicano e anche Gilchrist dice anche che il cervello sinistro è l'emisfero sinistro è l'emisfero del già visto del già detto l'altro emisfero è l'emisfero della novità allora questa interpretazione secondo me dà un'interpretazione più forte anche a quello da cui siamo partiti che noi viviamo in un eterno presente in qualche modo perché le modalità neurologiche che prevalgono ma ripeto le modalità neurologiche poi hanno un'estroflessione linguistica e hanno un'estroflessione organizzativa quindi c'è un circolo diciamo vizioso per cui certe modalità neurologiche sclerotizzano il linguaggio il linguaggio sclerotizza l'istituzione e viceversa questo circolo virtuoso ci porta a ritualizzare il già detto il già fatto o quello che non è scomodo diciamo così quindi lo sviluppo tecnologico ma solo dal punto di vista quantitativo i cambiamenti qualitativi devono essere enfatizzati con una presa di coscienza di un nuovo equilibrio cerebrale linguistico che voglio dire oggi alcuni stanno iniziando a denunciare non so io ho citato anche altre volte credo questo libro modi di essere in cui viene introdotto proprio forse l'ho già detto ma lo ripetiamo il concetto di violenza epistemologica a proposito semplicemente di una cosa attualissima però che le mille modalità di pensare di realizzare l'intelligenza artificiale invece oggi sono collassate su una sola cioè quella che fa più comodo ma non c'è non è un discorso sull'intelligenza artificiale è proprio anche un discorso se vogliamo a livello organizzativo dei team qualunque team il team aziendale il team accademico eccetera eccetera nel senso che bisogna partire dal presupposto che non solo siamo diversi come cultura come biografia ma anche come neurologia e quindi avere una visione umana integrale ma non per il riduzionismo non ne abbiamo già parlato ma noi dobbiamo vedere le neuroscienze come elemento che fa saltare il quadro non come elemento che in qualche modo normalizza tutto quanto perché noi siamo diversi geneticamente certo ormai lo si sa ma siamo diversi anche nevologicamente perché una cosa lega l'altro voglio disambiguare una cosa quando io e te parlo per me però penso che vaga anche per te nel senso parliamo di un rischio di scientismo tolto che io ho una formazione scientifica adoro la scienza la tecnologia la uso e ci ho lavorato per anni non è che stiamo facendo un neuromanticismo new age siamo contro la tecnologia contro la scienza ma stiamo dicendo qual è il giusto equilibrio di dialettiche e di contaminazioni tra le varie forme del sapere le prassi del sapere questo è il discorso quindi tutto ciò che ho detto in queste cinque puntate diciamo così viene da una riflessione interna alla scienza perché è la scienza stessa che critica il suo autoistituirsi come tribunale a cui giudicare tutti i saperi e le attività umane è successo in un periodo di tempo che per quello la storia conta all'inizio dell'ottocento in cui da un certo punto di vista si vede l'impatto notevolissimo della tecnologia dall'alto gli stati nazionali che tanto pacifici non erano scoprono anche che la scienza e la tecnologia hanno ricadute militari è un periodo importantissimo però non possiamo stare legato a quello dopodiché si aggiunge un aspetto anche negativo e siccome l'integralismo esiste in qualunque attività perché qualunque religione può essere integralista l'ateismo sappiamo cosa è successo può essere integralista ma se ti vuoi essere integralista lo puoi essere in qualunque ambito purtroppo lo scientismo ha preso degli elementi di religiosità integralista che non prima ma che da altre parti del mondo o anche qui da noi invece vanno verso le religioni monoteistiche o esistono anche degli integralisti buddismi o hindù quindi non è solo colpa del monoteismo ma non è il discorso che il monoteismo allora è più incline all'integralismo no ogni religione è incline e non incline dopo un mio amico chiama lo scientismo mono ateismo dove qual è il problema te l'ho detto l'abbiamo già detto ma ribadiamolo qui è di porre un limite invalicabile alla nostra idea di realtà come se noi ci autodiviniziamo e possiamo decidere dall'esterno dove finisce il mondo dove finisce l'universo dove finisce la conoscenza mi sembra assolutamente come dire quasi banale questo discorso eppure molta gente ha operato in questo modo fondamentalmente per autolegittimarsi non dico come persona ma per autolegittimare la propria impresa per dire ma ripeto per chi magari non conosce queste cose sono fin troppo chiare ma per chi non le conosce bisogna enfatizzare che tutto questo è un percorso a cui hanno portato le scienze e lo sviluppo delle conoscenze all'inizio del ventunesimo secolo e quindi per declinarlo meglio rispetto alla condizione umana bello che hai spiegato dei precedenti quattro dialoghi bene direi che a questo punto abbiamo un materiale di riflessione quindi salutiamo tutti grazie alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.